Torno a chiedere con una nuova interpellanza al Sindaco e alla Giunta se è ancora di loro interesse totare la città di questa struttura e a che punto eventualmente sono i progetti e le iniziative per portare avanti questa cosa. Anche perché il mio sincero timore è che essendo l'attuale struttura di Via Roma vecchia, obsoleta, non adatta a dare un servizio, ripeto così, importante, neanche sicura forse per gli stessi dipendenti che vi operano all'interno, i nostri Vigili del Fuoco. Ecco, io non vorrei che con questa motivazione il servizio di Vigili del Fuoco di Fanno venga magari accorpato a quello di Pesaro o a quello di un'altra realtà, così come temo possa succedere sia per l'ospedale che per l'ASET.